ciao a tutti anche questa settimana sono arrivato sul podio della weekly ROI challenge una sfida settimanale tra tutti gli studenti del metodo ROI booster ho totalizzato un ROI complessivo di oltre 1200 per cento anche se una parte il 268 per cento è stato realizzato con un conto demo questa settimana ho realizzato un profitto netto di circa 215 euro e considerando che investo solo 50 euro a singola operazione direi che il risultato è eccezionale come ho ripetuto varie volte il metodo consente di impostare l'expert advisor ROI booster la mattina per poi seguirlo durante la giornata se possibile o se si ha tempo quindi è un metodo che azzera l'emotività e la preoccupazione di perdere grosse cifre perché la cifra investita è sempre la stessa e sempre quella che si è disposti a perdere senza problemi rispetto a un metodo discrezionale il metodo statistico ROI booster ha molti vantaggi e quelli che vi ho appena detto sono solo alcuni di questi l'expert advisor è sicuramente un incredibile strumento in grado di aprire e chiudere le operazioni senza pensieri che dire di più sono soddisfatto e spero di proseguire utilizzare tutti i consigli e i suggerimenti che vengono forniti dai tutors e dagli altri membri del gruppo e di continuare così nella mia attività di trading da Andrea è tutto vi saluto ciao